Ciao a tutti, ci apprestiamo ora alla conclusione del taglio della cocumera, in questa maniera, facciamo un po' di tagli formando una linea spezzata, continuiamo così fino a, porca con dei piccoli gesti anerobici, ecco che abbiamo la rottura dell'anguria, allora un paio di colpetti per staccare ed ecco a voi il risultato.